Wilson, siamo ufficialmente giunti al venticinquesimo episodio della nuova serie principale di Minecraft L'episodio col drago vi è piaciuto tantissimo Arriviamo anche quest'oggi ad 88.888 mi piace Mi fido di voi perché andremo all'esplorazione del Nether No, il Nether l'abbiamo già visto All'esplorazione del Void Quello lì ci manca ancora ovviamente Poi lasciate come te, scrivete la cappellellina E buona visione Bene ragazzi, questo è Eppi e bentornati nel venticinquesimo episodio della serie principale di Minecraft Siamo a casa perché stiamo per preparare la nostra missione Alla ricerca di Elytra, Shulker Box e tutto ciò di cui avremo bisogno Prima di recuperare i materiali e gli oggetti che ci servono Volevo farvi vedere le modifiche che ho effettuato alla farm di Iron Come vedete ho circondato completamente tutti i villageri col glass Mi dà una sicurezza maggiore questa cosa Tanto esteticamente è più carino Ma non cambia niente a livello di funzione Li ho coperti pure sopra che non si sa mai Ma magari un fantasma ci plana dentro In teoria, piazzando quel fence gate al centro Adesso dovrebbe funzionare Quindi aspettiamo che spawnino un Iron Golem Nel caso in cui dovesse cadere nella lava Vuol dire che è ufficialmente funzionale al 100% e fixata Va bene, tanto non abbiamo granché da fare Quindi possiamo aspettare Perché non hanno paura? Dovete cagarvi addosso Niente ragazzi I villageri sono diventati coraggiosi Da un momento all'altro Non hanno più paura di niente Non si sa perché Eccolo! Iron Golem nella lava E funziona, vero? Funziona Controlliamo subito Scendi, 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 scendi Se questa chest si riempe Di altro Iron Vuol dire che abbiamo fixato tutto quanto E sono contentissimo E dai! Si così! Ovviamente per farla funzionare egregiamente Dovete stare qua sotto FK E far spawnare Iron Golem In continuazione Non so se più villageri là dentro Facciano spawnare più Iron Golem Ma non mi interessa sinceramente Lo lasciamo così E ce ne andiamo Facciamo un piccolo recapito Di ciò che ci serve Nel Void Avremo tanto bisogno Di materiali Io direi di portare con noi La terra Che è il più semplice Da farmare Grazie alla pala Non vorrei ancora Riparare il piccone Ma molto probabilmente Dovremo farlo Perché purtroppo In un modo o nell'altro Questi 88 livelli Ci dovranno abbandonare Prima o poi Non posso avere per sempre 88 livelli Pertanto Prendiamo 3 diamanti Andiamo nella Anvil E ripotenziamo Nuovamente Oh mio dio Tantissimo Comunque Va bene Non è assolutamente Un problema Già che ci siamo A questo punto Potenziamo anche la pala E la spada Cioè potenziamo Ripariamo Un paio di diamantini Sulla spada E un diamantino Sulla pala E siamo tutti Felici e contenti In live ragazzi Ho risistemato I collegamenti Del portale Del nether Il che significa Che adesso I due portali Non sono più in conflitto Le enderpearl Sicuramente ci salveranno La vita In tante situazioni Soprattutto perché Gli shulker box Che non mi ricordo Come si chiamano Perché gli shulker box Sono l'oggetto Gli shulker E basta Quando ti colpiscono Ti danno la levitazione Ovvero ti fanno Svolazzare per l'aria Una situazione E una sensazione Alquanto strana Vedete il portale Tutto collegato Abbiamo qua il portale Del land Ci buttiamo dentro Molto beatamente Oddio Pensavo di poter Cadere nel vuoto Da lì meno male Laggiù in fondo Come vedete Dopo aver combattuto Il drago Si è generato Il portale Che ci conduce Al void Molti mi hanno detto Step Riammazza un altro drago Fai un episodio Dove riammazzi Un altro drago Uè Con calma L'abbiamo fatto ora Speriamo Di avere subito Una nave Del void Vicino Così non dobbiamo perdere Troppo tempo Per raggiungere E trovare l'elitra Siete pronti ragazzi Guardare dentro al portale Mi fa sempre un effetto stranissimo Mi fa quasi vomitare Andiamo Let's go Remote Gateway Siamo Ufficialmente Nel void Allora Punto numero uno Abbiamo bisogno Abbiamo bisogno Di ricreare Una scalettina Che ci porti Lassù in cibo In modo tale Da essere sempre Pronti Ad andarcene via Quando ci pare E piace In questo modo qua Benvenuti Nel void Nel void In realtà Non c'è granché Ci sono I chorus Che danno Semplicemente Un piccolo Teletrasportino Quando sono mangiati Non mi ricordo neanche Se ripristinano la salute Però voglio controllare Immediatamente Perché sono curioso Dai De chorus fruit Mua Ok ripristino la salute Cibo infinito Con teleportazioni Infinite Figo Ci sta Il void Purtroppo Non contiene Chissà quante cose fighe È un deserto Infinito Con questi cactus Che si possono mangiare So commestibili E poi non c'è nient'altro Oltre a una marea Di enderman Certo Ovviamente È presente Se riusciamo a trovarla Anche la nave Del void Nella nave Ci sono altri Mostriciattoli Interessanti Da incontrare Però La mia domanda È questa Dove dobbiamo andare Secondo voi Già un'isola In quel modo Bella enorme Potrebbe essere E fare al caso nostro Andiamo Io sono fiducioso Secondo me Le litra Ce la danno subito Oggi al primo colpo Nel caso in cui Non fosse così Potremmo avere Un piccolo problema Siamo arrivati La prima isoletta È stata raggiunta Purtroppo Così Subito A impatto Non mi pare Di vedere niente Mannaggia la miseria Qua purtroppo L'isola È già terminata E dobbiamo provare Ad andare verso laggiù Eh sì Ancora isole Che non portano Un bel niente Si continua La nostra avventura Ragazzi Non è assolutamente Un problema È iniziata ora Sono fiducioso Quindi piano piano Con calma Non dobbiamo neanche Non dobbiamo neanche preoccuparci Di mettere le torce Perché come vedete qua Il tempo È sempre uguale Non so definirlo È viola Comunque Quella piattaforma Laggiù in fondo È molto lontana È vero Però Sembra molto 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 Ma aiutatemi a dire Molto Grande Una piattaforma Molto grande Può significare solamente una cosa Al 100% Troveremo la nave del void Proprio lì Vero? Perché la troviamo La nave del void No eh Speriamo L'ultimo stack di terra A disposizione Teoricamente Dovrebbe bastare Nel caso in cui non bastasse Ovviamente Lanceremo la enderpearl Poi recupereremo Dei materiali là sopra E ritorneremo Di qua Collegati Senza alcun problema Le probabilità di trovarlo ora Non sono altissime Però la nostra fiducia È molto più alta Delle nostre aspettative Se non mi date una fortezza Siete veramente cattivi Ma proprio tanto cattivi Eh Oh No 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 Perché ho l'emotico Sei arrabbiato Sei nervoso Eh Quel momento del mese Ma che t'ho fatto io Io stavo facendo i cavoli miei Vabbè Peggio per te Siamo immortali raga Cosa volete farci Laggiù c'è un'altra isola Giga enorme Wow Le probabilità Che la nostra nave Sia su quell'isola Sono basse Non voglio crederci Oh 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 mio dio Non è vero Che culo Che fortuna ragazzi Allora calmo Oh mio dio No no Ragazzi Ho sbagliato Non volevo farvi brutto Vi ho guardato per sbaglio È stato un incidente Gli incidenti capitano Oh ma ammazzano Ma ammazzano E muoio qua alla fine Oh Wee Oh mio dio Enorme Ragazzi Enorme L'abbiamo trovata Veramente C'è la nave Che fortuna Giuro Completamente A caso Questo vuol dire Credere nel karma E avere un po' di culo Anche se Non è la stessa isola Vero È un'altra isola Vabbè Non è assolutamente Un problema Ragazzi Figuriamoci Basta recuperare Un po' di handstone Fortunatamente Abbiamo riparato Il piccone Dai Basta e avanza Ne prendiamo un po' di blocchi E siamo tranquilli Se cadiamo nel vuoto adesso Perché la tastiera Si scollega Io ammazzo qualcuno Ci siamo Bella storia ragazzi Voglio immediatamente Un bel pollicione in su Eh Qua dentro Ci divertiamo Il primo obiettivo Sono ovviamente Gli shulker Gli shulker Sono la prima cosa Che dobbiamo uccidere E dobbiamo trovarne Il più possibile Oh The city at the end of the gate Che figo Nuovo Wow Spacca tutto Spacca tutto Ricordiamoci Di stare Sotto a questi oggetti Quando ci colpiscono In modo tale Da non dover salire Necessariamente Intanto abbiamo Un bel pezzo Della mappa Del mappa concettuale Degli oggetti Che ci servono Che mappa Eh Sto dicendo Oh oh Si è teletrasportato Vabbè non importa Sono molto forti Sti aggeggini Teoricamente Con due shulker shell Non si fa un bel niente Va bene Perfetto Comunque potrebbero Fare qualcosa Per colorare Le armature di diamante Sarebbe davvero Molto Oh oh Aiuto Queste cose iniziano a fare male Quando sono tanti Ve lo dico eh E mori dai Ma non fare il prezioso Datemi Il vostro drop Dovete Morire Vieni vieni Sto arrivando Piccoletto Sti aggeggini Deviano le frecce Dell'arco Quindi in teoria Non posso manco colpirli Mi stanno facendo Molto male però Molto molto male Oh 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 Disastro Disastro Devi arrivare in quella casa Prima di volare in cima No 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 Che fortuna Non so quanto ho rischiato Se fossi mandati Un alto nel cielo Probabilmente saremmo morti Se provi a picconarlo Se ne va via Va bene L'importante è saperlo Ovviamente Colpitemi Colpi Oddio pensavo mi avessero colpito Mi sono buttato di sotto Sono un matto raga Sono un matto Colpisci Colpisci Ammazza Non muoiono Quanta vita avete Scuriamoci un secondo Eccoci Mi hanno colpito Hanno scelto loro per me Ce ne sono una marea Quanti siete Mori 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 Questo è andato Perfetto Il prossimo Il prossimo di qua Vai 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 Ti piazzi sotto Lo uccidi Raccolto lo shurkel shell Bene 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 Chi è che spara ancora Dove siete Tutti in cima sono Se finisco la levitazione Ovviamente cado nel vuoto Quindi stiamo attenti Molto 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 attenti Anche lui è andato Non mi sembra Che abbia droppato altro Ci sono un paio di chest Intanto L'elitra Ovviamente È sopra la nave Non la troviamo qua a giro Mi pare Superfluo dirvelo Però Meglio dirvelo Che non farlo Vediamo un po' Una pala di diamante Con efficienza Un piccone Con fortuna 3 Questo d'emergenza Non è affatto male Tanto oro Un'armatura con protection E una sella Va bene Non abbiamo trovato Chissà cosa Ma ci accontentiamo Questa fortezza del boi Mio dio raga Ma è orme Raga è giganterrimo Ma oh no 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 Calmi 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 Devo capire come visitarlo E soprattutto un pezzo per volta Eh se no impazzisco Tu sei il prossimo a morire Dai dai che ti do un pari di cose No Mi sta facendo volare Disastro Disastro Devo entrare dentro raga È pericolosissimo star fuori eh Anche una ender chest Allora prima uccidiamo loro Dobbiamo ammazzarli raga Immediatamente Muori Grazie Un altro shulker shell Se arrivassimo a 10 Sarebbe perfetto Fire protection Unbreaking Acqua affinity Molto buono Questo è il metto Altibed Sì Le selle Vabbè Lasciamo perdere Piccone commanding Ed efficienza 4 Questo non è affatto male Anche se Quando scavi Non guadagni esperienza Comunque Altro oro Metti da parte La ender chest Io credo sia la nostra Prima ender chest In ass No E Ma Perché sono Scemo L'ho rotta Vabbè Dobbiamo ricraftarla Poi un giorno Quando arriviamo a casa Senti bello mio Mi hai stufato 9 shulker shell Ok Ti faccio vedere Un trucchettino eh Vai 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 No No Disastro Disastro No 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 E poi no Mi segue Aiuto No Lasciami in pace Ok sono sceso Sono riuscito a scendere Meno male Meno male Raga che culo Siamo in cima anche a questa torre Ok mi sto perdendo raga Mi sto ufficialmente perdendo L'obiettivo È andare là Ovviamente Però come Non è un altro Ma non capisco dove sia Voi lo vedete Perché io non lo vedo Se voi lo vedete Ditemelo Mi fa molto piacere Questa cosa È tipo qua fuori Forse Eccolo lì È il nostro amico E siamo a 10 shulker shell 7 secondi di levitazione Approfitta Ne approfitta Ne approfitta Ne approfitta Ne approfitta Ne approfitta Ne vai Bellissimo Bellissimo Meraviglioso Meraviglioso Quanti ce ne sono ancora Oh mio dio Ma abbiamo fatto jackpot Raga Forse è il fatto che stiamo giocando in hard Questa cosa ha ribaltato la situazione Ci permette di avere Una marea di shulker box Cioè è fondamentale Tutto quello che sta succedendo Forse molti non lo reputano importante Ma per me lo è tantissimo Basta seguirmi La smettete? Oh Razzi telecomandati di sto cavolo Anche meno Anche meno Allora abbiamo capito che la endercia si rompe se la rompiamo Però sti cavoli Almeno recuperiamo l'ossidiana Ok Blast protection Mending Unbreaking Se mettiamo praticamente Unbreaking E mending Su tutto Siamo devastanti Siamo a 12 shulker shell Non pensavo di trovare così tanta roba Raga mi tocca dividervi l'episodio È fighissima sta cosa Cioè Facciamo due episodi nel void Che bomba Che bomba Aspettate che salgo eh Nel prossimo episodio prendiamo l'elitra Sono emozionatissimo raga Non potete capire Ok Calmo ste Non fare il bambino di 8 mesi Dai sali su qua in cima Un'altra 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 parte Un'altra torre Voglio svuotarle tutte quante raga Non so quando ritorneremo qua Quindi dobbiamo approfittare No No Oh my god Troppi Troppi Un'altra ender chest So troppi Via 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 Sali su Sali su Sali su 6 secondi ancora Va bene Va benissimo Si si colpitemi pure ragazzi Sto volando Look at me I'm flying baby Wow 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 Intanto noi saliamo Mi hanno spaccato gli scarpetti Li mortacci Vostra brutti shooter Maledetto Oh Mori Grazie Adios Eh si è teletrasportato Eh vabbè Eh Goodbye 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 No No Aiuto Pericolo Pericolo Abortire la missione Step Rimetti le chiappe al sicuro E' pericolosissimo stare qua Con poca vita Soprattutto con quegli aggeggi Che ti fanno andare dove gli fare a loro Non pensavo di trovare una roba così enorme Abnorme Giganterrima Quindi Fermiamoci Un attimo Ragazzi Sti cosini fanno veramente male Non pensavo così tanto A lungo termine Ti spaccano in due Eh vabbè Non sai fare parkour Step È un problema tuo Ce l'ho fatta Sono in cima alla torre Più o meno Non riesco a fare l'ultimo salto Mannaggia a te Adesso È fatta Ci siamo Calmi Sereni Tranquilli Ci sono anche i banner Questi sono fighi da portare a casa Allora Facciamo le scalette Saliamo in vetta a questa torre E facciamo vedere Chi è il re Anche del void Baby Look at this Abbiamo visitato solo due torri di quattro Mai vista una fortezza del void così gigante Ragazzi Questo episodio di oggi termina qua Spero vivamente che vi sia piaciuto Abbiamo trovato la fortezza E nel prossimo recupereremo le litra Torneremo a casa E con gli shulker box Faremo il jackpot Più totale Se il video vi è piaciuto ragazzi Spolliciate Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina Noi ci vediamo nei prossimi giorni Con un prossimo video Qua è sempre tutto Alla faccia tua Che dicevi che non lo trovavo Ah subito alla prima Let's go Quanti pugni prende Wilson ogni volta Una marea Alla faccia tua